Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La moglie di Francesco Totti è stata beccata insieme ad un personaggio famosissimo senza vestiti Scopriamo insieme tutti i dettagli.A dispetto delle indiscrezioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della sua vita, Ilari continua a mostrare il suo miglior sorriso all'interno del programma da lei condotto A quanto pare le voci circa la presunta crisi con l'ex capitano della Roma non hanno intaccato il buon umore della showgirl romana Quest'ultima piuttosto, è apparsa concentrata e motivata per questa nuova sfida in cui si è cimentata e che la terrà impegnata almeno per i prossimi due mesi Le faccende da sbrigare in qualità di presentatrice di un format tanto seguito quanto discorso sono innumerevoli Per fortuna la Blasi ha al suo fianco dei validi collaboratori che l'assistono costantemente cercando di favorire il corretto svolgimento del reality show Inoltre, la meravigliosa quarantenne Capitolina può disporre anche del supporto dei suoi due opinionisti di fiducia, Vladimir Luxurea e Nicola Savino Per quel che riguarda le presunte problematiche di coppia tra lei e suo marito, Ilari ha scelto di presentarsi in prima persona in un paio di trasmissioni televisive per smentire il tutto Da prima è stata ospite di Silvia Toffanin che l'ha intervistata ai microfoni di Verissimo, mentre di recente ha accettato anche l'invito di Francesca Fagnani a prendere parte alle riprese di Belle Ilari Blasi beccata insieme a lui, ecco la foto incriminata Lo stesso comportamento della Blasi lo ha assunto anche Francesco Totti Il fenomenale ex numero 10 Giallorossa ha caricato sul suo profilo di Instagram alcuni video in cui ha, in primo luogo smentito le illazioni, per poi dichiarare di essersi stancato di tutte le voci legate al gossip che riguardano la sua famiglia Nella serata di ieri però, uno scatto pubblicato da Ilari sui social network ha creato nuovamente scalpore Nell'immagine in questione vediamo un personaggio famoso senza vestiti ma solamente in canottiera e mutande all'interno di un camerino, con la Blasi che ha aggiunto la seguente frase, succede al termine della puntata Il soggetto della foto è Nicola Savino, opinionista di questa sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi che fa coppia con Vladimir Luxuria Naturalmente tra la conduttrice e il suo collega c'è un bel rapporto di amicizia, pertanto lo scatto che possiamo vedere in alto non denota altro che un'elevata confidenza che intercorre tra i due volti del reality show targato Mediaset In passato Ilari e Nicola hanno collaborato in alcuni altri programmi, motivo per cui è cresciuto un ottimo feeling che è evidente anche durante la diretta del format Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video